Musica Approvata all'unanimità una mozione affinché il governo nazionale e la regione toscana intraprendano politiche capaci di frenare la grave crisi del settore della moda e di porre le basi per il suo rilancio. Negli ultimi tre anni sono più che triplicate le aggressioni al personale sanitario, approvata una proposta di risoluzione per contrastare il fenomeno. Crisi della moda, mozione all'unanimità. Mettere in campo una serie di azioni affinché il governo nazionale da una parte e la regione toscana dall'altra producano politiche capaci di frenare la grave crisi del settore moda e di porre le basi per il suo rilancio. È quanto prevede la lunga e dettagliata impegnativa della mozione, sottoscritta da tutti i gruppi, che il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità all'indomani dell'incontro con i rappresentanti sindacali dei lavoratori del sistema moda nel giorno in cui hanno scioperato per chiedere misure urgenti a sostegno del settore. Un comparto in grave difficoltà economica e in cui cresce ormai da parecchi mesi il ricorso alla cassa integrazione. L'atto di indirizzo prende le mosse dallo studio IRPET dello scorso giugno che fotografa la situazione di grande difficoltà di tutto il comparto manifatturiero, segnato dalla contrazione della domanda interna, la diminuzione degli scambi internazionali, l'instabilità generata dai conflitti in Europa e Medio Oriente, dalla crisi energetica e dall'inflazione. In questo contesto i contraccolpi sono pesanti in tutti i distretti produttivi della Toscana ed uno dei più colpiti è il comparto della moda, che come ha ricordato in conclusione di dibattito, l'assessore alle attività produttive Leonardo Marras rappresenta, escluso l'indotto, quasi il 40% dell'intero sistema produttivo toscano. L'impegnativa della mozione chiede alla Giunta regionale azioni condivise e con una visione di lungo periodo per ridurre la vulnerabilità della filiera toscana, prevedendo incentivi finalizzati a promuovere investimenti in forma aggregata, con particolare riferimento alle reti di impresa, di rafforzare la riconoscibilità dell'ampia gamba di competenze e patrimonio del settore, di scongiurare l'ulteriore indebolimento dei sistemi produttivi locali della moda, favorendo la loro riproducibilità, di favorire l'accesso ai fondi del PNRR e a quelli europei per sostenere investimenti in digitalizzazione e transizione ecologica e di incentivare politiche attive del lavoro, anche attraverso arti e percorsi di riqualificazione del personale. L'atto di impegno chiede poi alla Giunta di attivarsi presso il Governo nazionale affinché l'accesso alla Cassa Integrazione sia estesa anche a tutto il 2025, affinché si possano individuare tutti i codici ATECO dei datori di lavoro potenzialmente beneficiari della misura di Cassa Integrazione Guadagni, affinché siano garantiti adeguati strumenti di sostegno per l'accesso al credito delle aziende, prevedendo delle garanzie pubbliche per questa finalità e senza comportare un peggioramento dei rating aziendali. La Regione Toscana deve inoltre sollecitare il Governo alla costituzione di un tavolo congiunto sul sistema moda che veda coinvolti i ministeri competenti e le regioni interessate e infine a promuovere a livello comunitario un confronto istituzionale finalizzato a valutare l'opportunità di specifiche deroghe per il settore conciario all'applicazione del regolamento UE relativo all'utilizzo di alcune materie prime e alcuni prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Avevo preso un impegno ieri con le lavoratrici, i lavoratori, con i sindacati che hanno scioperato. L'impegno era quello di cercare di uscire con una posizione unitaria che prenda impegni della Regione ma che anche chiede impegni al Governo. Dobbiamo fare in modo che il Governo rifinanzi la cassa integrazione anche dopo le otto settimane previste per quest'anno. La Regione deve costruire condizioni per sostenere le imprese del comparto della moda. Oggi a soffrire di più sono le imprese che lavorano nella filiera più bassa e sono soprattutto quelle lavoratrici e quei lavoratori che rappresentano un patrimonio unico a livello nazionale e internazionale. Compito nostro e le istituzioni è mandare un messaggio forte, di unità, così come hanno fatto i sindacati e sono orgoglioso che l'Assemblea Legislativa abbia accolto la mia proposta e l'abbia trasformata in un atto concreto. Le aziende del settore moda sono arrivate a questa crisi fiaccate da una concorrenza sleale fatta da tantissime aziende abusive, da tantissimo sommerso che succedeva nel bandone accanto. Nelle aziende italiane si rispettavano leggi, regole, regolamenti, leggine, norme e via dicendo. Nel bandone accanto c'era chi poteva fare le stesse cose, concorrere sullo stesso mercato infischiandosi di quelle regole, calpestando qualsiasi norma sui diritti dei lavoratori. La sinistra, i sindacati se ne sono dovuti accorgere quando ci sono stati i pestaggi per mano dei picchiatori mandati da alcuni datori di lavoro. In questi anni non si erano accorti di quello che stava succedendo nella Piana Fiorentina, a Prato, nelle zone del tessile e della moda. Una mozione che va su due binari paralleli. Il binario del breve periodo e quindi senza far nascondere quello che deve fare il governo e quindi oltre alle otto settimane di cassa integrazione che ha già confermato per il 2024, fare un ulteriore passo in avanti anche per il 2025, quindi un ulteriore aiuto per tutte le imprese e quei lavoratori che in questo momento non sanno quale sarà il proprio futuro. E poi anche un settore più a lungo termine, oltre a quello della formazione, oltre a quello del lavoro, quindi oltre a tutte le competenze regionali, più a lungo termine la regione toscana deve guardare alla tutela del marchio Made in Tuscany e degli investimenti affinché ci siano delle aggregazioni di impresa per far sì che le imprese siano più forti. La sottoscritta, insieme al presidente della Commissione Sviluppo Economico e al Partito Democratico, nella persona del suo capogruppo Vincenzo Ceccarelli, ha portato alla redazione di una proposta di legge sulla costituzione dei consorsi di sviluppo industriale, che cerca proprio di dare una proposta, una risposta ai settori in crisi. Coloro che oggi auspicano un intervento della regione in proposte, oltre che nel cercare di tamponare la crisi attuale, spero che li vedrà concordi nell'approvare una proposta di legge che offre appunto una cornice legislativa capace di dare delle risposte a delle crisi aziendali. Un sostegno unanime del Consiglio regionale della Toscana, un comparto a tante donne e uomini che lavorano in difficoltà in questo momento. Per noi la moda è un settore traeniante dello sviluppo economico della nostra regione e come tale va sostenuto con delle politiche specifiche, servono misure di welfare, serve l'aiuto e il sostegno ai lavoratori, è il motivo per il quale Italia Viva, e il sottoscritto ha firmato e votato convintamente un documento che va in questa direzione. Il consulente del Presidente Gianni ha un lavoro, che ha un bellissimo stipendio, come abbiamo detto i consiglieri di Gianni, ha un bellissimo stipendio, da due anni a questa parte, ha 30 tavoli di crisi aperti, fra i quali quello del distretto e la moda. Cosa ha fatto? Abbiamo la consapevolezza che il Governo ha attivato immediatamente la cassa integrazione, otto settimane di cassa integrazione per dare una risposta immediata, è del tutto evidente che nelle more delle risorse del bilancio dello Stato attiveremo anche per il 2025, qualora ve ne fosse bisogno la cassa integrazione per sostenere i distretti industriali toscani, ma il tema vero è che la Regione Toscana cosa ha fatto? La risposta è niente. Credo che sia doveroso nel momento in cui c'è da difendere e cercare di creare le condizioni per il rilancio di un settore che per quanto riguarda la Toscana è fondamentale. Sono oltre 110 mila gli occupati, ma soprattutto la moda è anche quel brand che fa conoscere la Toscana nel mondo. Quindi speriamo veramente che a questa unità di intenti seguano poi anche delle misure concrete che sono racchiuse nelle richieste che abbiamo fatto attraverso questo documento. È stata approvata a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale la proposta di risoluzione in merito alle azioni di contrasto al fenomeno delle aggressioni nei confronti degli esercenti, le professioni sanitarie e sociosanitarie. L'atto, presentato su iniziativa della Commissione Sanità, ha ricevuto 23 voti favorevoli di Partito Democratico, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto Merito e Lealtà, 11 voti contrari di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. La proposta di risoluzione recepisce l'emendamento presentato dai consiglieri Giovanni Ilgalli della Lega e Andrea Ulmi del Gruppo Misto Merito e Lealtà, respinti invece dall'Aula gli atti collegati, l'ordine del giorno presentato da Diego Petrucci di Fratelli d'Italia e la mozione a firma del portavoce delle opposizioni, Marco Landi della Lega. Negli ultimi anni l'Osservatorio regionale Aggressioni ha registrato un'importante escalation del fenomeno. Si è passati infatti dalle 752 aggressioni al personale sanitario nel 2020 alle 2356 nel 2023. Nel primo semestre di quest'anno gli episodi sono stati 1136. La proposta di risoluzione approvata impegna la Giunta regionale a dare urgente e completa attuazione a tutti i provvedimenti e misure di contrasto alle aggressioni dei sanitari previsti dagli atti della Giunta stessa, dandone informazione al Consiglio regionale. L'atto impegna inoltre ad agire nei confronti del Governo affinché si preveda l'immediata stipula e attuazione di protocolli operativi con tutte le forze dell'Ordine del territorio regionale e a reperire le risorse necessarie a destinare al controllo e alla vigilanza. Ancora impegna la Giunta ad investire sull'utilizzo delle guardie giurate nelle strutture sanitarie. Infine chiede che siano implementate le misure di supporto alla tutela legale del personale vittima di aggressione. Ad illustrare la proposta di risoluzione è stato il Presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni, del Partito Democratico, il quale ha ricordato il lavoro svolto sul tema dalla stessa Commissione a partire dallo scorso anno attraverso audizioni di parti sociali, categorie e aziende sanitarie. Nell'analisi concreta le misure da fare che sono in corso di implementazione sono dal lato della Regione l'informazione ai cittadini, la formazione degli operatori sulla parte anche di come gestire il momento delle aggressioni, la parte infrastrutturale. La Regione ha da una parte dal 2018 un osservatorio regionale che monitora tutti i casi di violenza in Regione. Con la delibera dello scorso anno sono stati investiti 2 milioni di euro per investimenti infrastrutturali, vogliono dire videosorveglianza, strumenti per tutelare la sicurezza, pulsanti per chiedere l'emergenza e le aziende hanno monitorato tutti i punti dove vi è un rischio oggettivo e stanno implementando una serie di investimenti finanziati dalla Regione che possano mettere a sicurezza i presidi. Poi c'è la parte della tutela e dell'ordine pubblico. La Regione paga i vigilantes, le guardie giurate che controllano quello che possono fare, quindi fanno una parte dissuasiva e si spende qualche milione d'euro che rientra nel Fondo Sanitario Nazionale e che lo Stato non ha mai dato neanche un euro per questo tema. Però noi su questo non abbiamo fatto neanche polemia. Diciamo che la Regione deve continuare a spendere quei soldi, però abbiamo chiesto una cosa che è banale, e cioè che lo Stato eserciti il proprio compito di soggetto che tutela l'ordine e la sicurezza pubblica. Occorre una mappatura di quali sono i poli ospedalieri esposti, quali i reparti esposti, quali i giorni di una settimana e le fasce orarie maggiormente esposte. Partendo da lì possiamo chiedere di declinare la presenza delle forze di sicurezza. Quindi è chiaro che nei reparti più esposti, nelle fasce orarie più esposte possiamo chiedere e pretendere la presenza delle forze dell'ordine, polizie e carabinieri. A mio giudizio il venerdì e il sabato sera in 4, 5, 6 pronto soccorsi in Toscana particolarmente. In altri possiamo avere la presenza della polizia privata con altre regole di ingaggio. I buttafuori nelle discoteche, gli agenti di sicurezza davanti alle OGLRI hanno regole di ingaggio differenti e noi possiamo chiedere e pretendere all'interno di un quadro normativo che è dato che ci siano regole di ingaggio differenti nei pronto soccorsi. Io ho votato a favore fin dalla Commissione perché ritengo che sia un punto nodale per un'attività che è già molto pesante per i medici. Quindi avere addirittura una spada di Damocle di possibili aggressioni va assolutamente combattuta. In realtà sia a livello nazionale che a livello regionale ci sono le delibere che in qualche modo proteggono i nostri medici e i nostri sanitari perché tutto sommato la Regione ha già focalizzato l'attenzione su questo problema. Bisogna solo metterle in pratica. Sono stati portati ad esempio anche altre Regioni. È vero, il tema sanitario e il tema delle aggressioni negli ospedali sanitari non è un tema prettamente toscano. Però abbiamo visto che anche in altre Regioni ci sono stati degli interventi precisi e puntuali. Il Veneto ha mappato interamente il territorio, ha creato una task force per insegnare anche e far istruire medici e infermieri su come improntarsi e approcciarsi nel momento in cui avvengono delle aggressioni all'interno degli ospedali. Ha già inserito tantissime telecamere, tantissimi bottoni di emergenza, ha investito molte più risorse e tante altre, anche l'Emilia Romagna ha fatto degli investimenti importanti su questo. Ecco, la proposta di risoluzione non ci convince perché non abbiamo capito se non quella della mera strumentalizzazione politica di dire ulteriormente il governo deve fare, il governo deve fare perché il governo è di un colore diverso non abbiamo capito qual è la direzione che invece la Regione Toscana vuole intraprendere su un problema serio come questo. Quello che noi assistiamo oggi nelle aggressioni ai sanitari e non riguarda soltanto la Toscana ma tutto il territorio nazionale a mio avviso è frutto di problemi diversi non solo problemi legati alla sanità ma a un disagio sociale evidente che si manifesta di fronte alle più piccole e gravi anche difficoltà nella reazione violenta spesso imprevedibile verso i nostri operatori sanitari che hanno perso di autorevolezza ma il continuo scontro fra istituzioni non porta a un buon esempio soprattutto anche verso questi cittadini che hanno magari meno strumenti culturali quindi noi dovremmo essere i primi a collaborare con il governo perché la sanità non è solo competenza della Regione ma anche del governo e l'interesse collettivo dovrebbe essere superiore alla politica di partito La Regione Toscana entra in prima fila impiega delle risorse vuole tutelare gli operatori sanitari anche rispetto ai procedimenti giudiziari qualora si dovessero verificare delle aggressioni l'elemento del fragrante del reato e della notizia di reato deve essere formulata in maniera tempestiva questo deve consentire la procedibilità immediata perché la tutela massima deve avvenire in maniera istantanea dei nostri operatori che devono essere tutelati devono essere anche garantiti ma devono essere anche messi nelle condizioni di operare in sicurezza per questo serve una collaborazione organica con le forze dell'ordine e servono dei presidi specifici a favore di questi interventi perché possono essere tutelati tutti gli operatori a favore di fare